Allora, praticamente, mi sono in telecanarie e svegli mostri come che col dialetto veneto te poggiare il mondo e farti capire senza nessun problema. Hola, una sveglia. Mi ascolta, dovrei fare un regalo a una mia amica, una roba da non spendere ma a Saskè. Questo? No, 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 è una roba che sta sempre a casa, è una roba semplice, non è una che va a fuori. Ma ti pare io? È una tranquilla che sta a casa, non è esibizionista, è una roba... ti pare io? Ti pare io? Eh, ti pare io? Questa è una strassa per metà a casa? Sì, sì. Ah, beh, è una che è netta sempre per quella. Vale, no? No, no, vale, veramente è una che è netta sempre. A me dai pur questo, grazie. Beh, no, grazie.